Becchi a Roma sotto la luna non canti più, i stornelli le serenate di gioventù, il progresso da quando... Ben ritrovati al quarto appuntamento con La Lingua di Roma. E cominciamo con Avece li frati in finestra. Quando è che voi avete i frati in finestra? Quando vi si rompono le scarpe o i calzini e quindi avete a vista tutte le dita dei piedi che, nell'immaginario a quanto pare di noi romani, assomigliano tutti a dei piccoli fratacchioni che appunto si affacciano in finestra. Invece, forse avete, è più famoso e ancora si usa, il modo di dire Anna cerca Maria per Roma che equivale al proverbio italiano cercare un ago in un pagliaio perché nella Città Eterna ovviamente c'è una quantità esagerata di bambine, donne, signore e nonne che si chiamano Maria in onore della Madonna. Quindi è come cercare appunto un ago in un pagliaio. Molto più famoso, perché l'avete sentito tantissime volte o forse l'avete sentito in qualche film, è Arimane come Don Falcuccio. In realtà esiste anche un'altra versione con cui fa rima, cioè Arimane come l'Aretino Pietro con una mano davanti e l'altra dietro. Pietro Aretino era il maestro di Caravaggio, quindi un pittore abbastanza famoso nel 600, mentre Don Falcuccio risulta, ovviamente è una storia abbastanza leggendaria, che si rifarebbe a un parroco che durante il rinascimento era molto generoso. A chi gli chiedeva una moneta per comprare il latte, un paio di pantaloni, un cappello per proteggersi dal freddo, lui dava tutto, tutto, talmente tutto che a un certo punto ovviamente rimane nudo come mamma l'ha fatto. Quindi diciamo che chi è troppo, è un modo di dire perché chi è troppo generoso alla fine ci rimane fregato. Così è il significato. La parola del giorno di oggi invece è qualche cosa che forse non avete mai sentito perché è veramente caduta in disuso, che è tatagliani. Tatagliani è un modo garbato, più garbato, di dire ambecille, equivale a imbecille. Ed è composto da due termini, uno derivante dal latino, che è tata, che è l'equivalente vezzeggiativo di padre, quindi papà, il latino, tata, e da probabilmente, ma non è sicurissimo al 100%, dal dialetto siciliano, da granni forse, che vuol dire vecchio, però in modo dispregiativo, quindi nel senso di poco sveglio, quindi sarebbe vecchio papà, quindi equivale al romanesco pure rincoglionito, quindi imbecille o rimbambito, che è totalmente, tatagliani è totalmente, come dicevo prima, sparito da Roma. Bene, ci sentiamo la prossima settimana con altre parole e con altri detti di Roma Nostra. Ciao a tutti!